Ieri c'è stato un importante incontro sul porto di Napoli con il nuovo commissario, il porto Saraporto è una delle zone della città che cambierà di più aspetto nei prossimi anni. Innanzitutto molto bene il clima con il nuovo Presidente, stiamo lavorando molto bene, soprattutto sulla zona orientale abbiamo messo a punto delle cose, ma anche su Molo Beverell un ottimo clima e credo che le risorse con Recovery Fun avranno nel porto un punto centrale per lo sviluppo a tutto tondo della nostra città e della nostra area metropolitana.